Siamo qui con quattro protagonisti dei Rangers, una grandissima squadra da noi molto amata per questo pre-partita contro il Chelsea. La parola al mister per un pronostico prima di questo grande incontro, cosa ha da dirci? Risultato più gettonato, 1-0 per i Rangers. Addirittura 1-0 i Rangers e quindi si pronostica una squadra pronta a difendere alla grande e qui non possiamo che non intervistare il grandissimo bravista della difesa, un grande caravetta, autentico leader, appena tornato. Cosa ci dice di questa difesa? Io dico che la difesa regge e oggi non passerà nulla. Penso due tiri in porta, la pallona farà il suo. Io sono d'accordo col mister, 1-0, adesso ci pensa il cara. Non passa niente. E insomma i Rangers, testa alta e qui abbiamo il Cappelletti che è forse il giocatore più a testa alta di tutta la squadra. Vabbè, lo schermo è facile, le palla a campo e si abbracciano. La squadra comunque ha grandi potenzialità, sì, i protagonisti della Roma. Una Roma che quest'anno sta facendo un grandissimo campionato e ora loro ci diranno dove vuole arrivare questa squadra. Speriamo di arrivare a Madrid e abbiamo puntato appunto questo torneo, una bella squadra e speriamo che arriviamo fino in fondo. Dopo Londra ci piacerebbe fare il corretto. Non sarebbe male per una squadra che comunque ha grandi potenzialità. Sicuramente le aspettative erano molto più basse, ci siamo rivelati una squadra molto migliore rispetto a quello che pensavamo. Quindi le aspettative per me stanno crescendo, facciamo un bel finale di campionato. 3-6 punti, sicuramente non a 0, non resteremo a secco. 3-6 punti, sicuramente non a 0, non resteremo a secco.